salve a tutti salve a tutti oggi voglio farvi un video di me che è finita in reale class ho fatto un casco questo che ho messo dello scotch per tenere una forza di carta che si mette sopra il teleco per fare in real persona ok iniziamo questo adesso devo indossare il teleco ok adesso devo indossare il teleco ok non c'è un pallino iniziamo il match il match inizia la piattaja il match inizia e la piattaja si schifre la parte ok mettiamo il match inizio il match il match questo che è normale, amore ok, potete percibire anche miro che c'è l'ho? nessuno c'è un piccio? nessuno che c'è l'ho da mecce non 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 c'è l'ho da mecce questo è il pubisato è il canto di te adesso mi ero ecco l'hai là c'è un cane ancora no l'hai che è là c'è che disparo non dove non lo ha colpito non lo ha colpito non ormai si è solo avventurare una malla in acqua ma c'è una gampicina che dove? becchio posso andare bene tanto non vuoi fare niente si ormai ed ormai Grazie a tutti Grazie 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 Grazie